Il centro per l'autismo, come vi dimostriamo, facile preda per ladri e vandali che già in passato hanno arrecato serie danni alla struttura. Le recensioni e le barriere esterne dell'edificio ormai sono cadute a pezzi e facilmente superabili e così mentre le istituzioni si limitano allo scaricabarile su fondi e competenze, il centro ormai quasi completato apre le porte per ora solo ai malintenzionati per lanciare l'allarme. Questa mattina siamo entrati da uno dei tanti varchi resi accessibili dal degrado delle recensioni e delle transene che dovrebbero invece blindare la struttura. Una incursione utile a mostrare, documentare e denunciare la mancata protezione di un centro particolarmente sensibile e importante come quello per l'autismo, evidenziare che mentre continua il bla bla bla, gli ambienti dell'edificio sono stati ormai invasi dall'erbaccia e dall'umidità. La stabilità di una delle recensioni è addirittura garantita da una tavola di legno. Un abbandono più volte segnalato dall'AIP, a proposito domenica la giornata mondiale per l'autismo, una giornata di lutto per l'associazione che segue da sempre le sorti del centro, i blu dei nastri e delle bandiere che colora l'evento saranno molto probabilmente listati a lutto. Intanto Michelangelo Barrecchia attacca Comune Asla. La prima cosa da dire al Comune è che purtroppo dicono tante cose non vere. La prima sull'interrogazione di una consigliera battagliera che si chiama Adriana Percopo è questa. Il collaudo non è stato fatto, non è vero. A luglio è stato fatto il collaudo dell'intera struttura, si è visto il funzionamento della piscina, il riscaldamento. Pensa era luglio e il pavimento era caldissimo. Poi c'è la questione del terreno. È vero che la legge dice che il proprietario del suolo è anche il proprietario di quello che ci sta sopra, ma il Comune non ha messo in moto neanche la procedura ancora. La procedura, cioè come dire, un impiegato è autorizzato a fare questo in nome per conto del Comune, cioè l'esproprio, cioè l'acquisizione sanante. L'Aslo non ha il senso e la misura del bisogno che c'è, per cui ipotizza dei progetti che non serviranno probabilmente che pochissimi autistici. Non si rendono conto di chi sono, quanti ne sono, che risposta bisogna dare? Morgante, dirigente generale. Perché non convoca le famiglie che ci diranno quali sono i reali bisogni. Non si deve fare così. I padrini del territorio devono decidere, ma non è possibile questo.